Se sta bene e non ha problemi potrei anche farlo giocare. Manai è un ragazzo giovane di appena 20 anni che per me ha un grandissimo potenziale, un giocatore fortissimo come un giocatore fortissimo è il buyback. Se potessimo averlo a disposizione sarebbe tutto più bello. C'è un aspetto particolare che secondo me non è da sottovalutare. Noi non abbiamo mai preso gol a difesa schierata, o quasi mai. Nel momento in cui gli altri attaccano ci fanno gol. Se non con l'Inter magari, gol di Cardi, ma quello è stato un gesto tecnico individuale di un giocatore importante. I problemi sono nati quando abbiamo perso noi la palla, o meglio quando le abbiamo regalate. E noi lavoriamo tantissimo su queste cose qui, perché ovviamente se tu hai una squadra che vuole costruire, che vuole avere il pallino del gioco e quant'altro, devi mettere in conto che la palla, insomma ci sono anche gli avversari, la puoi perdere. Ed è proprio in quei momenti che tu devi stare più attento. Ma su questo noi ci lavoriamo giornalmente, quotidianamente, da due anni a questa parte. Io non posso andare alle ragazze e dire ragazzi oggi giochiamo male, che la vinciamo sicuramente. Noi dobbiamo fare di tutto per fare quello che sappiamo fare, stando attenti, molto più attenti a quelle cose su cui dobbiamo migliorare. Ma su questo io non ho dubbi, io sono ancora più convinto, ancora più strasicuro che noi ne usciamo e ne usciamo anche bene. Sono tutte partite difficili, non c'è una squadra scarsa, non ci sono partite facili, sono tutte difficilissime. Questo vuol dire che non è che perché arriva l'Atalanta dobbiamo vincere per forza perché è l'Atalanta. Perché l'Atalanta ha vinto col Napoli, ha vinto con l'Inter e quindi certamente è una signora squadra, è una squadra che è forte, che ha esperienza, che da tanti anni in Serie A e che ha i suoi valori come i valori li abbiamo noi. Sarà una partita difficile perché ha una struttura di gioco particolare, concede pochissimo, è una di quelle squadre che vi dicevo prima, che punta molto sulla solidità difensiva, bada tanto a non prendere, poi ha un giocatore su tutti come Gomez che è capace di fare la differenza. Ed è una di quelle squadre che gioca molto sull'errore degli avversari per poi essere molto solida a non concedere.